Ciao a tutti ragazzi ed eccoci qua per una nuova presentazione, un saluto come al solito a tutti quanti, perfetto, come va? Tutto bene? Ok, bene. E allora, nella scorsa presentazione abbiamo buttato giù un semplice, un rapido più che altro circuito, un semplice schema elettrico, perfetto, che ci dava appunto la possibilità di comandare tre punti luce, ok, per adesso inizialmente solo tre punti luce, rappresentati ciascun punto luce appunto da una lampada a led, ok, e quindi automaticamente poi avremo, si chiama, i due strumenti, il volmetro e l'amperometro, e abbiamo aggiunto anche il nostro amico led, il quale furbescamente si segnala appunto la presenza della linea sotto tensione, ok, per cui normalmente deve accendersi, se non si accende vuol dire che c'è qualcosa che non va, e andiamo subito a indagare dove può essere il problema, ok, ma tranquilli che di solito si accende e non si brucia quasi mai, almeno non in uno schema come questo, perfetto, dove abbiamo semplicemente tre componenti così, perfetto ragazzi, bene, 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 e allora adesso immaginiamo di ampliare il nostro ipotetico circuito, ok, abbiamo quindi i nostri tre punti luce, perfetto, ma noi vogliamo ampliarli, tuttavia però appunto lo ampliamo secondo appunto delle, o meglio, concentriamoci su una cosa, o meglio, vediamo una cosa, che cosa ci permette di ampliare il nostro circuito, ok, puntiamo nuovamente i riflettori ragazzi, esatto, sul nostro amico generatore, ok, abbiamo un grosso generatore, e abbiamo visto, ok, adesso ovviamente ne stiamo parlando così, che il nostro amico generatore produce una bella corrente elettrica, oh oh, ma è fantastico, beh, allora, come dice qualcuno, ma approfittano, e quindi ragazzi, se il nostro amico generatore produce una bella corrente, beh, allora appunto, perché non aggiungere degli altri carichi, rappresentati sempre da delle lampade, così appunto avremo più luce per quanto riguarda le nostre ipotetiche feste, non tanto ipotetiche, chi è che non fa la festa giorno d'oggi, perfetto, soprattutto in estate ragazzi, soprattutto in estate, ok, e quindi, allora, andiamo avanti, un secondo, non si apre, maledetto, ce l'avevo su con l'evidenziatore, perfetto ragazzi, e quindi andiamo avanti, abbiamo detto appunto, abbiamo inserito anche degli strumenti, il nostro voltmetro, che automaticamente monitora la tensione, ok, costantemente, e il nostro amperometro, che ci dice automaticamente il consumo del nostro carico, il nostro carico complessivo, o parziale, totale, e si chiama, mi sbaglio sempre, parziale, complessivo, e totale, qualcosa del genere, mi sbaglio sempre con una parola, vabbè, comunque sia, che siano automaticamente accese tutti e tre, o solo due, o solo una, ovviamente poi il consumo cambia, a seconda ovviamente poi, non l'abbiamo detto, ma adesso lo diciamo, della potenza di ciascun utilizzatore, quindi di ciascuna lampada, perfetto ragazzi, perfetto, e quindi andiamo avanti, allora, consideriamo questo come uno schema principale, ok, che ci permetterà l'accensione dei nostri tre utilizzatori, ok, e quindi automaticamente avremo un'unica linea, scriviamo il pull, tra l'altro io, brutto all'occo, non ho scritto una cosa ragazzi, allora, un dato molto importante, ok, che corrente è questa, che tipo di corrente è, di c, brutto bamboccio, mi sto insultando da solo ragazzi, scusatemi, insomma, quando ci vuole, ci vuole, ok, scriviamolo, allora, una precisazione, ok, come al solito qui cancelliamo tutto, altrimenti non ho spazio, ok, per quanto riguarda poi le diciture espressive, ok, e riscriviamolo, allora, scriviamolo pure qui sotto, la nostra linea, ok, poi lo cancelliamo nuovamente però, la nostra linea, ovviamente linea di tensione, possiamo mettere anche V, ma non si scrive, è ovviamente in DC, cioè corrente continua, dato importante, ok, ma no, ma al posto di scriverlo qui, anche perché poi lo spazio sotto me serve per scrivere e per continuare con lo schema, ma porca Eva, ok ragazzi, ma allora, ma mettiamolo qui, che razza di bamboccio, ok, DC, ok, dato importante che ci dice appunto come funziona il nostro circuito, il nostro circuito in questo caso funziona in corrente continua, perfetto ragazzi, bene, e quindi, oh, 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 qui si cancella tutto, eh, accidenti, scusa, scusa, lo so che poi non sei più connesso al comune di massa e non funzioni più, lo so, hai ragione, vabbè, si stava lamentando, ok ragazzi, perfetto, e andiamo avanti, quindi, ipoteticamente, andiamo avanti ad aggiungere, dato che noi abbiamo la fortuna, che brutto, abbiamo quindi la fortuna, ok, di avere un generatore che produce una bella corrente, quindi, sfruttiamola, allora, ampiamo il nostro circuito, ok, mettendo altri tre carichi, perfetto, rappresentati, abbiamo detto, sempre da tre lampade, ok, e quindi aggiungiamo altre tre lampade, perfetto, ovviamente siamo in parallelo, ok, altrimenti poi la tensione si, oh, no, qui non serve, qui non serve, un attimo, sull'angolo, non serve il punto di connessione, eh, che cavolo, perfetto ragazzi, perfetto, ok, bene, la chiusura del circuito, o semplicemente, appunto, i deviatori, chiamiamoli con, no, no, deviatori, non mi piace chiamarli deviatori, perché possono essere poi confusi con gli interruttori, appunto, le vetta deviatori, che vanno a deviare, appunto, il ramo depositivo, na, 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 brutta parola chiamarli deviatori, ragazzi, mettiamoli sopra una X, che è meglio, allora, chiamiamoli, appunto, interruttori, e riscriviamo, quindi, eravamo arrivati, lsv3, giusto? Sì, eh, perfetto, 4, ok, switch, ok, 5, e switch, 6, perfetto, in tutto abbiamo 6 interruttori, che ci permetteranno automaticamente di accendere tutte le nostre lampade, e come al solito, poi, vabbè, riscriviamo ancora, sì, un attimo, eh, perfetto, lampada, 3, 4, lampada, 5, che schifo, scusate ragazzi, ma scrivere così è veramente, un incubo, e lampada, 6, più o meno, perfetto, ragazzi, ok, e quindi, adesso stiamo disegnando un attimo al contrario, eh, lo so che bisognerebbe partire da lì e andare verso, si chiama, verso destra, ma stiamo disegnando al contrario, vabbè, la stessa cosa, ok, ragazzi, per cui automaticamente andiamo adesso a prendere il positivo per quanto riguarda l'altra, si chiama, l'altro circuito, perfetto, allora, dove andiamo a prendere il positivo? Esattamente, dato che noi dovremmo monitorare anche questo nuovo carico che è rappresentato dalle nostre nuove tre lampade, quindi andremo a prenderlo qui, esattamente dove c'è l'amperometro, perfetto, ragazzi, e quindi, se andiamo a prendere un po', andiamo a prendere questo punto, facciamo quindi un puntino di giunzione, il quale ci dirà che questa linea del positivo è connessa all'amperometro, ok, anche questa in poche parole, e quindi a qui cosa si viene formale, intanto, chiudiamo un attimo il circuito perché altrimenti non è contento e ce ne dice quattro, perfetto ragazzi, un secondo, ok, perfetto, adesso non so se metto il, sì, vabbè, un attimo perché devo aver tempo di disegnare, ecco, prolungo questa linea qui perché sarebbe all'interno del nostro ipotetico quadro elettrico, ok, per cui, sì, ma la linea storta fa veramente schifo, perfetto ragazzi, io spero che si veda qui, abbiamo un problema di ripresa, non saprei come fare, perfetto ragazzi, ok, se non si vede qualcosa poi ditemelo, allora, chiudiamo poi automaticamente il nostro circuito, stessa cosa col nostro comune di massa, perfetto, per comodità, per comodità, potremmo anche farlo, dovremo poi automaticamente prendere, si chiama continuare la linea e portarla quindi sul comune di massa, ma per comodità, dato che stiamo creando, abbiamo creato un altro circuito, perfetto, gli mettiamo direttamente massa telaio, ok, perfetto, ok, questo simbolo qui, che automaticamente indica GND, vabbè, questa sarebbe, allora, massa telaio questa qui, però appunto non abbiamo apparecchiature metalliche, almeno per adesso, per cui gli facciamo semplicemente il segno della terra, perfetto ragazzi, adesso, si chiama, va meglio, perfetto, come al solito GND, perfetto, e quindi automaticamente, se no poi c'è un punto, un intrico di linea e non si capisce più niente, ok, andiamo a indicare poi il comune di massa, la chiusura del comune di massa con il simbolo appunto TATTA GND, perfetto ragazzi, che è come se fosse connessa al comune di massa, perfetto ragazzi, e fin qui non c'è nessun problema, bene, interruttori li abbiamo messi, bene, perfetto, e quindi ci siamo, adesso però, cosa succede? Il nostro circuito abbiamo detto che va in continua, perfetto, bene, si vanno a creare, o meglio, creiamo, facendo un altro circuito, una doppia linea, cosa vuol dire? Abbiamo una linea sotto tensione e un'altra linea sotto tensione, però, entrambe le linee fanno parte dello stesso ramo di tensione, in poche parole, entrambi i circuiti funzionano con la stessa tensione che abbiamo 24V, perfetto, per cui, se sono due linee, non vuol dire che una linea automaticamente va con una tensione e l'altra con un'altra, ma è possibile, giusto? In questo caso, perché chi è che fornisce la nostra tensione di 24V? Ok, è sempre lo stesso generatore, per cui i 24V automaticamente vanno ad accendere le prime tre lampade e anche le seconde, per cui, possiamo dire che entrambi i circuiti sono connessi sulla stessa linea di tensione, perfetto ragazzi, bene, e quindi, adesso, anche qui, per identificare l'altra linea di tensione, potremmo mettere anche qua il nostro amico, un secondo, lo attacchiamo qui, ehi, va bene se ti attacco qui? Sto parlando con il LED, sì, ah, ok, va bene, va bene, un nostro amico, che brutto, che brutto, LED, perfetto, e anche qui ovviamente gli mettiamo il simbolino del GND, perfetto, ok, e mancano ovviamente le due scarichette, perfetto, ok ragazzi, e quindi automaticamente abbiamo due LED, uno e due, perfetto, che stanno a indicare la presenza di tensione per i due circuiti, perché ovviamente adesso i due circuiti saranno separati, facente parte sempre della stessa linea di tensione, ma separati, vuol dire che io posso accendere tutte e tre, o meglio, un solo circuito e quindi tutte e tre le lampade, perfetto, o tenere spento il primo circuito e accendere invece solamente il secondo, e come al solito ho la possibilità di scelta di accendere tutte e tre, o solo due, o solo una, decido io, perfetto, che bello ragazzi, i circuiti sono belli perché decido io cosa voglio fare, perfetto, e quindi automaticamente, adesso, ah sì, vabbè, 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 no, solo una cosa, qui ci vorrebbe un altro pallino di connessione, perché altrimenti poi uno non capisce che è attaccato direttamente, si chiama la continuazione del positivo, perfetto, anche qui il nostro amico l'abbiamo messo, bene, cosa dovremmo attaccare d'altro? Ora, siamo arrivati qui, ok, però cosa dobbiamo attaccare? Dobbiamo, o se no, no, vabbè, possiamo lasciarlo, no, no, lasciamolo così, lasciamolo così, era una parola riferita per quanto riguarda il volmetro, ok, perfetto, possiamo lasciarlo lì direttamente, tanto il suo comune di massa è sempre lo stesso, non abbiamo un'altra linea, per cui non c'è un problema, problema, ok ragazzi, bene, e quindi adesso scriviamo che abbiamo due linee, un secondo ragazzi, io mi metto qui di fianco perché altrimenti sono proprio fritto, non ho più spazio, non ho più spazio, ok, allora abbiamo una, perfetto, linea, linea 1, perfetto, e una linea 2, facendo parte sempre della stessa, scama, eh, ho aiuto, della stessa tensione, per cui, se faccio, eh, sbaglio a parlare, se fanno parte entrambe della stessa tensione, le mettiamo automaticamente in una graffa, ok, con la freccia, che automaticamente va a indicare il livello di tensione nominale, cioè 24V, ok, 24VVN, se prendiamo un esempio in questo caso che abbiamo fatto fino adesso, il 24V, ok, per cui automaticamente, poi potremo anche scriverlo nel circuito, linea 1 e linea 2, volendo possiamo metterlo, ok, ma cosa dite voi ragazzi, possiamo metterlo, eh, è uguale, diciamo che da una parte è meglio, quando abbiamo un circuito leggermente più grande, però dai, sì, dai, mettiamolo, se riesco a scrivere, un secondo, oh, non so più come scriverlo qui, ok, dai, mettiamolo qua, linea 2, ok, perfetto, e linea 1, mettiamolo qui, perché io non ho più spazio, adesso cancello poi il resto, perfetto, linea 1, ok ragazzi, perfetto, chiudo, perché, uh, 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 questa presentazione sta diventando lunghissima, aiuto, ciao a tutti, ci vediamo nella prossima presentazione, ragazzi, dove andiamo avanti, che si chiama, con il nostro amico circuito, ciao a tutti e alla prossima!